Oggi per la mia consueta passeggiata nella natura dato che avevo poco tempo ho scelto di tornare nei posti vicino a casa come ho detto negli altri video e le altre volte ormai ci stiamo avvicinando all'autunno le temperature incominciano a rinfrescare le giornate si accorciano e il numero di animali che si possono vedere si è ridotto a un lumicino praticamente nel mio piccolo giro parte che oggi era un po disturbato perché ci sono ancora le metitrebbie che stanno tagliando il riso però ho potuto scorgere un bel po di rane qualche gallinella d'acqua due fagiani garzette un aerone cinerino per cui oggi avrò deciso di non tanto puntare sulla fauna delle nostre terre quanto la nostra flora perché finora non mi sono mai soffermato molto nei miei cammini e nella mia documentazione ma anche se le nostre zone vengono spesso e volentieri usati molti diserbi molti fiori e molte piante riescono comunque a sopravvivere e oggi ho voluto dedicarmi a questa questo ramo delle visite naturalistiche guardate i fiorellini che ho trovato a parte alcune foto di rane che quelle non possono mai mancare tra le mie foto e ci vedremo la prossima volta con una nuova e avvincente passeggiata grazie a tutti Grazie a tutti.